8 anni, 9 anni, 6 ore nella scuola e 2 e mezzo fanno dopo scuola sarò dire 7 ma ragazzi si muovete per queste cose che hanno segnato ma loro si muovete fate sentire tutto questo messaggio fate sentire perché sono malato strano ma chi sta a nasci morire per queste cose che hanno segnato chi ha a nasci morire pure dietro che ora mi ne chiesto nel quattro di essere e non ci sono i miei stai nidici e non ci sono i miei stai nidici